È una piccola biblioteca ma di alta specializzazione perché è una biblioteca dedicata quasi esclusivamente a testi teatrali, non solo italiani ma un po' di tutta la storia del teatro. È una biblioteca ricchissima di particolarità, prima di tutto perché abbiamo trovato all'interno dediche da parte dei donatori, Ninki per esempio, quindi nomi di un certo rilievo perché è costituita dalla stratificazione di fondi donati alla piccola ribalta come per esempio il fondo Sanchini ed è ricchissima di ex libris, di annotazioni da parte di chi ha utilizzato i testi della biblioteca per poi effettuare delle rappresentazioni teatrali e quindi delinea un po' la storia del teatro italiano e non solo ma anche la storia a livello locale del lavoro, ormai quasi di 80 anni, dell'associazione piccola ribalta, teatrale piccola ribalta. È un unicum perché non esiste una biblioteca teatrale nel nostro territorio, la prima, dotata di materiale quindi di alta specializzazione sia a livello monografico che seriale perché ha una buona dotazione di riviste che sono tra l'altro aperte quindi sono ancora in abbonamento. Le riviste come sappiamo nel settore sono del materiale che è ricco perché aggiornato e perché a livello tecnico permette anche per chi poi ne usufruisce di avere la possibilità di consultare materiale utilissimo sia per il teatro che per le rappresentazioni teatrali. Abbiamo iniziato una serie di letture e ci saranno altri appuntamenti per tutto il mese di settembre. Sono appuntamenti che trattano autori presi direttamente dalla nostra biblioteca. Sono tutti appuntamenti ad ingresso gratuito quindi sono liberi alle ore 18.30 il venerdì mentre le domeniche sono dedicati ai bambini. L'appuntamento invece è alle 17.30. Sono letture fatte dai nostri attori e tratteranno appunto diversi argomenti. Questa biblioteca è molto importante per noi perché è la prima nella regione Marche che tratta appunto l'argomento dei testi teatrali. Questo è un primo tassello, oggi inizia per poi costruire un grandissimo progetto per questa libreria che contiene 1700 testi teatrali e oltre 2000 riviste sempre specialistiche per il mondo del teatro.